E lei? È pronto? Lei un sogno ce l'ha? Uno yacht, un'amante, una Ferrari, un'idropulitrice? Prima di cominciare, mi parli del suo sogno? Io non sono molto bravo con le prove, ma il ricordo di questa mia famiglia sta tutto qua. Ogni cosa in questo posto è la tessera di un puzzle che componiamo a più mani. Un sogno che sogniamo tutti insieme, da più di 50 anni. No, 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 niente acqua, per carità, che se no poi più bevo e più mi viene sede. Grazie. Grazie.